Subito fuori! Stai bene? È tutto finito. Mi dispiace, Odd. Scusate, non vorrei disturbarvi, ma dobbiamo tagliare la corda, è in fretta! Yumi, dammi la mano, coraggio, dammela! Grazie, Elita, sei arrivata in tempo. Dobbiamo muoverci. Xana non ha ancora mandato i suoi mostri, ma non tarderà. La torre attivata è in quella direzione. Si prospetta una passeggiata molto piacevole. Non è difficile come sembra, se salti al momento giusto. Un gioco da ragazzi, sei pronta? La torre attivata è in quella direzione. La torre attivata è in quella direzione. La torre attivata è in quella direzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.